Come guadagnare 5 euro l'ora senza fare nulla? In questo video ti mostrerò come grazie a questo metodo puoi guadagnare 5 euro l'ora utilizzando il pc o il telefono da casa tua. Non devi vendere nulla e non hai bisogno di un sito web, quindi non preoccupare. Per prima cosa devi andare sulla piattaforma Steemit, ovvero un sito nel quale le persone possono scrivere articoli. E non solo ricevono traffico gratuito e visualizzazioni, ma guadagnano anche per ogni persona che visualizza il loro articolo. Ora bisogna combinare la piattaforma Steemit con un'altra. La prima di farlo devi iscriverti ad Audible. Ah mi raccomando se ancora non l'hai fatto lascia un like ed iscriviti, grazie. Per chi non la conoscesse Audible è una sezione di Amazon dedicata agli audiolibri e bisogna iscriversi al suo piano di affiliazione per poter guadagnare. Infatti come puoi vedere Audible ti pagherà 10 euro per ogni persona che si iscrive grazie al tuo link alla prova gratuita che dura per 30 giorni e successivamente guadagnerai 15 euro se questa persona si iscrive con un abbonamento ad Audible. Per registrarti come affiliato ti basta scrivere Audible Affiliate su Google e selezionare questo risultato qui. Ti lascio comunque il link in descrizione per sicurezza. Una volta registrato vai nella sezione audiolibri su Amazon e scegli un libro che a parer tuo sembra interessante e accattivante. Come vedi le persone possono scegliere di ascoltarlo gratuitamente e facendolo tramite il tuo link guadagnerai 10 euro. A questo punto salva il link del libro che hai scelto. Ah, in descrizione ti lascio il link del mio nuovo canale Telegram per guadagnare soldi. Vali a dare un'occhiata. Ora ti basta andare su un'intelligenza artificiale specializzata nella creazione di articoli che si chiama WriteSonic. Seleziona la creazione di articoli e digli su cosa scrivere un articolo. Se ad esempio andiamo su Audible e scegliamo un libro sulla produttività, la disciplina eccetera, diremo alla nostra intelligenza artificiale di scrivere un articolo sulla produttività e la disciplina. E come vedi ci inizierai a scrivere un articolo ottimizzato proprio per questo. Adesso quello che devi fare è andare su Steemit, pubblicare il tuo articolo e mettere come libro consigliato quello di Audible con il tuo link di affiliazione. Una volta pubblicato l'articolo vai su gab.com che è praticamente un social media nuovo a differenza di Facebook, Instagram eccetera e crea un post dove pubblicizzi il tuo articolo su Steemit. In questo modo le persone che proverranno da Gab e Steemit ti permetteranno di guadagnare grazie alle visualizzazioni sull'articolo e le persone che prenderanno il libro con la prova gratuita o con l'abbonamento ti permetteranno di guadagnare 10 e 15 euro. Ti lascio tutti i link in descrizione. A presto!